Si svolta presso la Capitaniera di Porto di Gallipoli la cerimonia di passaggio di consegne fra il Comandante di Fregata, Giacomo Cirillo, Comandante Cedente, e il Comandante di Fregata, Tiglio Maria D'Aconto, Comandante Accettante. La cerimonia ha visto la presenza di numerose autorità civili, militari e religiose. Il Capitano di Fregata, Giacomo Cirillo, dopo quasi tre anni di permanenza nel Salento, lascia Gallipoli e si è riuscito a ricoprire un prestigioso incarico di comando presso la Capitaniera di Porto di La Spezia. Nel corso del suo periodo di comando, Cirillo è riuscito, grazie alla collaborazione del proprio personale dipendente, a porre in essere iniziative utili alla gestione delle molteplici problematiche di sua competenza, tra le quali innumerevoli soccorsi prestati a favore di immigrati irregolari, bagnanti, pescarecce ed imbarcazioni da di Porto. Il nuovo Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaniera di Porto di Gallipoli, il Capitano di Fregata, Tiglio Maria D'Aconto, si insedierà ufficialmente lunedì 20 gennaio. originario di Giovinazzo, proviene dalla Direzione Marittima di Vari ed ha già ricoperto importanti incarichi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, in qualità di comandante, il primo reparto, impiego ufficiale del Corpo del Capitano di Porto e presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di aiutante di bandiera, ufficiale superiore a detto del Ministro.